Riccardo Modesti è l'ideatore del concorso nazionale di bellezza Misintimo, con oltre 30 anni di esperienza. Come tutti gli anni, Riccardo Modesti seleziona tantissime ragazze in diverse location, come piazze, locali, stabilimenti balneari e altri luoghi. Se hai una location idonea per organizzare eventi di moda e bellezza, chiama per info 335-22-1872. Riccardo Modesti è l'ideatore del concorso nazionale di bellezza,